Era un venerdì, periodo pre-natalizio, c'era lo smog, a mezzogiorno sembrava già notte. Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Scoppia la bomba e immediatamente gli attori di tutta la partita si mettono in moto. Creare uno stato di tensione nel paese, depistaggio, incolparne le sinistre per arrivare a un colpo di Stato. O state fermi o qui sarà terrore per tutti.